Pronti per il vlog di Natale? Andiamo! Musica Ok ragazzi eccoci qui da questo posto bellissimo lì in fondo c'è un lago Questa è una bellissima collinetta ragazzi voglio augurarvi i migliori auguri di Natale Per farlo vi regalo 5 euro di buono su Amazon e per partecipare a questa sorta di giveaway Ma in realtà è più un regalo di Natale Ragazzi non dovete far altro che lasciare un bel commento qui sotto Iscrivervi al canale e lasciare un bel like a questo video Poi se volete farlo mi raccomando seguitemi sulle mie pagine Instagram, Facebook e Twitter Dove pubblico davvero tanto soprattutto su Instagram Quindi ragazzi io non faccio altro che augurarvi tantissimi auguri di Natale E noi ci vediamo domani per un video davvero fantastico Quindi buon Natale a tutti!